Il benamento fa tutto da solo? Sì, questo è quello che nel bene e nel male ci dà la possibilità di lavorare perché un po' come era successo in altri momenti di questo inizio del campionato facciamo tutto noi, quindi bravi a passare in vantaggio non bravi a concedere agli avversari quel poco ma fatto da errori individuali, dai nostri errori che permette agli avversari di poterci fare gol perché dall'errore e dall'ingenuità di Ricci ne concedono una punizione poi è stato bravo Kragel Ma era punizione? Ma non lo so, io l'ho visto ovviamente da distanza però stasera gli episodi a livello arbitrale non ci sono stati favorevoli però non è questo quello su cui dobbiamo recriminare assolutamente siamo noi che poi anche il gol del 2-1 inizio secondo tempo in un momento decisivo per la partita abbiamo preso gol su un cross su azioni che ce ne sono mille in una partita e poi non dovevamo assolutamente subire il gol del 3-1 con un'ingenuità in un momento chiave della gara avevamo tutto il tempo per continuare ad attaccare cercare il gol del pareggio e poi magari anche di provare a vincerla e quindi quando gli errori riguardano noi sono ovviamente frutto di lavoro e di correzione vorrei sinceramente a volte parlare di meriti degli avversari stasera credo che Focci sia stato bravo nel tenere palla e nell'occupare il campo in alcuni momenti ma come sappiamo è successo anche in altre partite inevitabilmente la gara non può essere condotta interamente da una squadra ci sono i momenti in cui puoi lasciare qualcosa all'avversario noi per scelta a volte lasciamo il possesso però se contiamo Pugioni non ha fatto parate questa è la verità quindi insomma davanti a una squadra che non ha tirato in porta abbiamo subito tre gol quindi ancora di più mea culpa e voltiamo pagina Grande amarezza dalle tue parole questa poteva essere un'altra serata trionfale un'altra notte diciamo magica con l'aggancio al primo posto la continuazione della serie positiva invece ci stiamo e vi state leccando le ferite ma credo che sia un bene che uno sia rammaricato e che evidentemente insomma c'è voglia di far veramente qualcosa di importante e credo che a volte prendere uno schiaffone serva un po' per per farti fare apparentemente un passo indietro ma con la speranza di farne qualcuno invece in avanti e noi probabilmente non eravamo pronti per fare un salto in avanti in classifica come continuità e quindi dobbiamo lavorare su questo quindi sarà una settimana in cui saremo belli arrabbiati sono contento perché io lo sono molto i ragazzi sicuramente perché si aspettavano qualcosa di diverso e quindi lavoreremo arrabbiati e credo che questa settimana ci farà bene Cristian, Cittadella è oggi contro il Foggia rifaresti le stesse scelte le stesse formazioni? Assolutamente sì io non mi faccio condizionare dai risultati altrimenti sarebbe troppo facile ho fatto due formazioni in linea con quello che ho visto negli allenamenti alle risposte e alle condizioni anche fisiche dei calciatori e quindi quello che è sceso in campo è stata sempre in ogni caso la formazione che ritenevo ci potesse portare alla vittoria questo l'hai detto ieri in conferenza stampa pregara le mie scelte saranno per gli uomini che io penso che ci possano far vincere ma secondo alcuni togliere alcuni elementi è stato un po' togliere continuità scusami non voglio essere polemico ma giusto per approfondire questo argomento che è stato dibattuto a lungo sia dai giornalisti sia sugli spalti dei tifosi così facciamo chiarezza totalmente ma elementi parliamo di l'unico che non ha giocato è stato Teio e Bill Long Bill Long per un problema fisico perché sì però diciamo che Asensio ha iniziato a lavorare con la squadra la prima dalla settimana anzi da due o tre giorni prima partita con Lecce e ha giocato più di mezz'ora con la Serenitana ha giocato 95 minuti martedì era difficile ipotizzabile che avesse una continuità fisica tale da poter fare altri 95 minuti e quindi il coda che aveva riposato sta bene poteva essere l'uomo giusto e tenerci una carta importante come quella di Asensio Ricci e Insigne sono due giocatori che stanno bene in base alle partite al minutaggio al momento li valuto così in proda un giocatore che aveva sempre avuto continuità l'unico cambio è stato in mezzo al campo dove Teio aveva fatto due partite intere sia con la Serenitana che a Cittadella inevitabilmente poteva avere qualcosa in meno degli altri e dietro c'è stato il cambio dettato anche dalla non disponibilità di Bill Long e sono rientrati anzi tutti i giocatori che rispetto ad altri erano freschi quindi i Maggio i Letizia i Viola lo stesso Bandinelli che non avevano giocato dall'inizio a Cittadella avevano sicuramente una condizione anche fisica migliore io credo che fisicamente noi stavamo molto meglio del Foggia il problema è che abbiamo commesso talmente tanti errori individuali nella gestione della palla nella gestione degli episodi nel non capire che in certi momenti l'episodio va portato dalla nostra parte perché ripeto questo è un campionato dove ci saranno alti e bassi e se noi siamo bravi invece a trovare un equilibrio faremo la differenza il Verona ieri ha perso a Salerno la salernitana dieci giorni fa sembrava una squadra in difficoltà eppure ha vinto una partita ci sono gli episodi ma quelli fanno parte di ogni gara noi stasera non siamo stati bravi a portare gli episodi dalla nostra parte anzi li abbiamo serviti su un piatto d'argento al Foggia grazie Cristian Sonia Lantella dallo studio mister Bucche tutto duo una mia curiosità nel corso della partita ad un certo punto è passato ad una difesa a tre spostando Letizia a destra a centro campo perché? ma perché volevo essere aggressivo siccome nel primo tempo a un certo punto avevamo lasciato troppo palleggio agli avversari allora volevo volevo trasmettere questo alla squadra quindi andiamo a giocarci l'uno contro uno e andiamo forte e in pressione sugli avversari quello che avevamo non ho sbagliato però nel primo tempo avevamo lasciato soprattutto dopo il gol troppo palleggio agli avversari quindi avevamo corso senza palla c'eravamo in nervositi e invece quello che volevo ridare alla mia squadra era occupazione dello spazio in avanti quindi una difesa alta coraggiosa i quinti che andassero a uomo e credo che l'abbiamo fatto molto bene anche perché il Foggia secondo tempo non è riuscito praticamente tranne gli ultimi dieci minuti sulla nostra stanchezza ad uscire fuori giocando e noi abbiamo occupato stabilmente la loro metà campo nell'occupare non siamo stati lucidi perché molte volte potevamo sfruttare meglio quello che avevamo creato e costruito con giocate con letture con passaggi a questo aggiungo qualche episodio anche dubbio direi perché io almeno dalla panchina ho visto un fuorigioco fischiato a Letizia che arrivava da dietro che secondo me era invece regolare era un momento in cui eravamo sul velo di Ricci che non ha toccato la palla quindi andavamo due contro uno col portiere tra lui e coda credo che fosse stata considerata valida sarebbe stata un'occasione nitida in un momento delicato della gara nel primo tempo io ho visto un contatto su Improdo e il secondo non ho visto un atto su Letizia in questo momento evidentemente non siamo né bravi né fortunati con gli episodi portiamo a casa tutto questo sapendo che dobbiamo migliorare tanto però non bisogna nemmeno ora drammatizzare bisogna essere bravi nel saper prendere da questa serata le cose giuste e costruttive io amo essere sempre ipercritico nei momenti in cui le cose vanno bene quando c'è la serata difficile bisogna essere bravi anche stasera a vedere le cose positive e le cose positive sono paradossalmente che abbiamo fatto tutto noi quindi siamo noi i padroni del nostro destino come dico sempre e quindi sapere che dipende tutto da noi è sicuramente una cosa che ci dà responsabilità ma ci deve caricare eh sì bisognerà ripartire e lo si farà a partire dalla trasferta di Pescara il Pescara che domani potrebbe portarsi in vetta mister una trasferta impegnativa vi dà più carica sì ma in questo momento io credo che l'avversario dovremmo cominciare a guardarlo nelle ultime partite perché oggi noi siamo alla ricerca di noi stessi come dicevo prima siamo stati capaci contro qualsiasi squadra contro qualsiasi modulo di fare momenti di grande calcio di tante occasioni a momenti di sbagatezza o di leggerezza o di non lettura dei momenti quindi noi in questo momento siamo alla ricerca di un equilibrio che ci porterà a giocare sempre nello stesso modo quindi propositivi giocare all'attacco cercare di rischiare sempre il meno possibile perché secondo me più giochi lontano dalla nostra porta più riesci a essere pericoloso e a non rischiare e alla ricerca di questo bisogna essere bravi quindi questi passaggi fanno sì che ci sia anche una presa di coscienza che gli errori che abbiamo commesso con Lecce o a Venezia non sono assolutamente alle spalle sono sempre vivi e quando li commetti ogni avversario foggia Pescara e ti mette in difficoltà domani mattina allenamento e martedì riposo? no no domani mattina allenamento e martedì pomeriggio ci alleniamo anche perché è una settimana corta quindi non c'è riposo ma non non è una mancanza di riposo punitivo assolutamente era il programma che avevamo avuto è un momento dove c'è da da tenere botta perché ovviamente abbiamo giocato tanto ma come noi anche i nostri avversari quindi dobbiamo prepararci bene insomma con tanta rabbia dentro e dobbiamo tirarla fuori insieme alle nostre qualità nella partita di sabato grazie mille a te Antonio sì allora vado io a chiudere con Cristian Bucchi così lo concediamo abbiamo visto che ti sei intrattenuto a lungo con il presidente Vigorito fuori dalla zona mix cosa ti ha detto cosa vi siete detti abbiamo parlato un po' dell'andamento della partita ovviamente insomma in entrambi c'è c'è quel rammarico ma entrambi conosciamo il calcio che a volte ti regala delle serate estremamente positive a volte delle serate su cui riflettere ma credo che sia nella normalità il fatto che sia arrivata oggi forse ci fa capire che il percorso è ancora molto tortuoso è sempre in salita quindi ripeto da una parte la delusione per la sconfitta da una parte ci deve essere invece l'assoluta presa di coscienza che ancora dobbiamo fare tanto ma veramente tanto tanto quindi lavoriamo testa bassa come abbiamo sempre fatto